Torna la giornata della colletta alimentare. Domani 27 novembre in diversi punti vendita e supermercati i volontari in pettorina gialla del Banco Alimentare aiuteranno e daranno le istruzioni a tutte le persone che vorranno acquistare e donare omogenizzate la frutta, tonno, carne in scatola, olio, legumi e pelati. Sul sito colletta.bancoalimentare.it è possibile conoscere quali sono gli esercizi che hanno aderito alla storica iniziativa che da 25 anni si propone di raccogliere cibo da destinare ai più bisognosi. Domani la modalità tradizionale ma da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su amazon.it slash bancoalimentare oppure con la cosiddetta charity card. In Abruzzo si stima che saranno oltre 32.000 i bisognosi che riceveranno le donazioni. Sabato 27 novembre ci sarà la 25esima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare. Una giornata di carità e di solidarietà che amo definire nazional popolare perché ormai è conosciuta e alla quale tutti possiamo partecipare. Partecipare attraverso un piccolo gesto concreto ma di una importanza e di una rilevanza enorme. Concreto perché si tratta di fare una spesa comprando dei prodotti che vi verranno indicati attraverso un volantino che vi verrà consegnato dai volontari riconoscibili dalle pettorine gialle. Ma soprattutto di una importanza enorme perché questa spesa ci permetterà di aiutare chi aiuta. Cioè di aiutare le numerose associazioni di carità presenti sul nostro territorio che quotidianamente abbracciano il bisogno e aiutano le persone in difficoltà. Ma la colletta non è soltanto una giornata di carità e di solidarietà ma anche un'occasione grande per educarci ad un'esigenza che in questi due anni abbiamo in qualche modo scoperto essere ancora più importante e urgente. Perché mai come in questi due anni abbiamo capito che dall'emergenza sanitaria occorre favorire nella nostra società una dimensione di condivisione. Una condivisione alla quale ci si educa attraverso gesti come quello della colletta. Perché come ci ricordava il Papa nessuno si può salvare da soli. Vi aspettiamo numerosi e generosi.